Benvenuti a questa trasmissione di Telegranda. Come promesso, dopo Irene D'Urbano, abbiamo un'altra artista donna, ed è Carla Siccardi. Buonasera, Carla. Buonasera, salve. Allora, Carla è un'artista poliedrica, da quello ce lo spiegherà lei. Non nascondo che io non conosco la sua arte, se non alcune cose che mi sono state trasmesse da parte di uno degli associati del Magao, dove tu sei associata, che ripeto, l'avevamo già parlato, questo Magao è un'associazione di artisti, presieduta da Enrico Perotto, che si fanno delle mostre, fanno un percorso sicuramente interessante per gli artisti e per la comunità, anche in dei posti non tipo Rittana. Sì, siamo a luoghi abbastanza desueti. Desueti, ecco. Esatto, però giustamente l'arte deve riuscire, un po' come l'acqua, a passare dappertutto, no? Sì, certamente, a comunicare e a evolgere il suo, secondo me, proprio allietare anche le persone. Assolutamente, su questo sono d'accordo, anche perché abbiamo già problemi tutti i giorni, ognuno per sé e poi di cosa succede nel mondo, ogni giorno c'è un qualcosa. Almeno quando sei di fronte a un'opera d'arte, non voglio dire che debba darti assolutamente una felicità, una serietà, un oblio totale, però che non ti dia nemmeno un pugno nello stomaco, perché forse questi pugni nello stomaco, che sono così abitudinari nell'ambito dell'arte contemporanea, dove forse è più arte per stupire, non per essere un contemporaneo, questa è una mia valutazione, ovviamente. Deve essere anche, cioè, per l'artista è un po' una sublimazione, perché esprime degli stati d'animo, delle sensazioni, e raccolgo degli stimoli e tutte le volte che riesco a realizzare qualche cosa, riesco a comunicare. Beh, certo, che non è poco, che non è poco. In quest'opera che tu hai voluto portare, vedo questi elementi di collage con dei tessuti. Veramente sì, l'idea iniziale mi è partita, perché alle volte sono proprio degli oggetti, delle piccole cose che mi danno l'impulso per creare un lavoro. In questo caso avevo un pezzettino di stoffa con delle farfalle. Sì, bellissima. E da questa sono partita per creare questo lavoro. Poi, gran parte delle opere che ho realizzato ultimamente, sono basate un po' sul collage. E quindi, per collage intendo qualsiasi oggetto, cose che anche... Che si applica sulla tela. Che si applica sulla tela. Ecco, l'elemento... Spezzettini di carta. Esatto, a parte la carta, il tessuto ha una sua ragione, da cosa ho capito per te. Certamente, perché inizialmente i miei primi lavori, parlo degli anni 70, sono iniziati con una grande opera di tessitù, cioè di dissolvimento della tela. Ho iniziato prendendo una stoffa e ho provato proprio a togliere i fili e sfilacciarla. E questo lavoro, che per me era titolato Processo inverso, è durato parecchio. E mi ha permesso di partecipare, per esempio, nel 71 a una grande mostra a Milano, che era il San Fedele, il premio San Fedele. E a me piaceva proprio togliere questi fili, perché creavo dei percorsi nel tessuto. Addirittura li contavo. Ci sono delle tele in cui ho iniziato a sfilacciare, contando proprio i fili. Mi ricordo che facevo 33, perché questo era un numero... Un numero magico. Magico. E contavo proprio a 33 fili e la diradavo. E ho cominciato con un grande lavoro composto da tre teli, ed era a dimensioni abbastanza grandi, perché erano tre tele, di un metro e venti per un metro e venti. Ah, no, complimenti. Poi ho proseguito in questo lavoro e in una mostra a Cuneo, nella saletta... Non ricordiamo, no. Non ricordiamo, no. Chiamava una saletta, diciamo. Sì, ho realizzato, cioè proprio ho terminato con il disfacimento completo della tela, per cui per terra sono rimasti i fili. I fili, certo, certo. E avevo voluto coinvolgere il pubblico nella ricostruzione della medesima tela. Questo in che anni siamo? Sempre negli anni 75. Beh, bisogna riconoscere a Carla che fare queste cose negli anni 70, insomma, sei stata avanti. Sì. Cioè, eri sicuramente un'artista contemporanea, come lo sai adesso ovviamente, ma in quel periodo... Cioè, noi abbiamo l'idea sbagliata, non dico io, che la donna pittrice sia quella che fa i fiori, che fa il campo di grano, la margherita, in realtà ogni tanto si evince... Tagliente. Come? Può essere anche tagliente. Bravissima, no, ma può essere una pittrice quando è brava, è brava. Ovviamente usciamo fuori da chi è un naif, cioè che fa, dipinge perché ha il suo hobby, e quindi sia donne o uomini che siano, nelle donne prediligono le nature morte con i fiori, voglio dire. Ma nel tuo caso, se negli anni 70 concepivi già questa realtà in questa sala di esposizioni, che presumo fosse del comune di Cuneo, forse Sala San Giovanni... Sì, Cuneo era di... Beh, voglio dire, era una gran cosa, ecco, quindi onore al merito, anche perché ho intravisto, prima della trasmissione, due altre opere che tu avevi portato, poi abbiamo scelto questa, più vecchie di queste come datazione, perché questa è più recente, no? Sì, è del 2013. Ecco, perfetto, invece ho visto delle altre cose, non abbiamo il tempo per far vedere tutto di un artista, ovviamente, la scelta delle opere la fa sempre l'artista, non la faccio io di quella da proporre, però ho visto due cose che prima, che ricordano Schwitter, che ricordano gli anni 20... Sì, un pochino, anche in certi casi ho realizzato delle composizioni che erano un po' dadaiste. Dadaiste, assolutamente, certo. Io ho frequentato il liceo artistico e l'Accademia a Torino, e ricordo che uno dei primi lavori, appunto, in cui ero un po' uscita dagli schemi, era un'opera in cui ho dato una nuova vita a dei tubetti schiacciati di colore, dei tubetti a olio, e li ho incollati tra due supporti, due spazi bianchi che avevano delle proporzioni auree, e così è di lì che ho incominciato proprio a inserire e a volere anche magari trapassare quello che era la tela, per cui avevo avuto anche l'idea di utilizzare per esempio delle griglie, delle reti tipo un vespaio, su cui adagiavo anche la tela, però lasciavo intravedere uno spazio. E questo era nel 68, quando frequentavo l'Accademia. Io voglio dire una cosa che forse non sai nemmeno tu, ma che il grande pubblico penso che conosca Armand, Armand è stato un grande artista del nuovo realismo, Armand ha usato, io ho lavorato con lui, ho fatto anche l'ultima mostra sua personale, l'ho fatta qui a Cune, poi è mancato, l'ultimo lavoro l'ha fatto con me, che era un'inclusione nelle resine della Reformola One, un'opera bellissima a cui abbiamo lavorato, ha lavorato lui, ma andavo sempre nel suo atelier a Saint-Paul-de-Vance, ecco tu hai usato i tubetti, i tubetti, nel fine anni 60, ecco tu pensa che Armand ha usato i tubetti di colore negli anni 80 per un decennio, applicandoli sulla tela, tutti erano tutti nuovi, pieni, poi li pestava, li pestava ed erano gli shooting color. L'ho visto ultimamente. Ecco, quindi tu devo dire, presumo che tu conosca di cosa stiamo parlando, ecco, questo mi fa veramente piacere che tu, devo dire con molta onestà, io non conoscevo la tua opera, ho visto delle foto che mi ha inoltrato Cornelio, l'amico comune, e mi hai incuriosito, devo dirti che traspare la tua cultura vedendo i tuoi quadri, però questa sorpresa dei tubetti degli anni 60 veramente non me l'aspettavo, e quindi sono veramente felice di averti conosciuto, di averti fatto questa intervista. Questo tante volte perché ognuno di noi pensa di conoscere un po' tutti, ovviamente non si può conoscere tutti gli artisti, perché è praticamente impossibile, è come fare la collezione di Franco Bolli, del mondo, diventa un po' impegnativo. Però almeno gli artisti che sono nell'ambito provinciale o comunque legati alla provincia, io dovrei avere il dovere di conoscerli, visto che sono stato un operatore per 45 anni. Mi eri completamente sfuggita, però spero di recuperarti, perché quello che tu hai detto, vedi quando tu dici ho studiato il liceo artistico, ho fatto l'accademia, e è una cosa che dopo due minuti che parli si evince, perché si capisce che dietro c'è un background culturale molto forte, ma te lo dico con molta onestà, non è che devo farti complimenti, te li faccio per le parole che hai detto, sono rimasto, come mi ripeto ancora, quando tu hai detto, e ho detto, ma voglio chiedere in che data ha fatto questa cosa dei tubetti, non ti nascondo che se mi avessi detto, le ho fatti nel 2000, non avrei citato Armand, perché ho detto, beh, magari allora avrà visto un lavoro di Armand e fra virgolette ha voluto così imitarlo. Premetto che secondo me le citazioni in arte sono doverose, nel senso che io qui per esempio vedo alcune cose che mi ricordano addirittura Tuombli, immaginati che mi ricordano Novelli, quindi sì, perché ci sono delle situazioni dove uno che sa leggere, tu involontariamente hai fatto il tuo lavoro, però ognuno di noi ha degli impulsi che sono esterni, dal proprio background alla propria cultura. Sì, ma perché certe situazioni sono nell'aria, uno le assimila, le fa proprie, però tutti hanno delle cose da esprimere, quindi un po' si sente, si associano a questi. Guarda, io ti devo dire la verità Carla, ma non è che lo faccio, mi ripeto, sono stato veramente felice di conoscerti, perché ho conosciuto una persona colta, una persona piacevole, mi hai detto che eri timida, prima della trasmissione quando parli d'arte vai che è un piacere, che non hai nessun problema e spero che la stessa cosa che hai trasmesso a me tu riesca a trasmetterla ai nostri telespettatori e la possibilità anche poi di vedere in qualche rassegna le tue opere dove ovviamente tutto quello che è stato detto poi viene, si vede fortunatamente. Ringrazio Carla, ringrazio i telespettatori di Telegranda, l'appuntamento per la prossima settimana sarà ancora con un'artista donna. Grazie Carla. Grazie, grazie, piacere è stato. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti.